Devo dire che il grosso lavoro di questo momento è, oltre a quello normale del dissovenire alle necessità pastorali della Chiesa, dei luoghi dove è necessario e negli ambiti dove è necessario, direi che soprattutto è stata la redazione del rapporto sulla libertà religiosa e questo è stato un po' il grosso lavoro di tipo intellettuale e di ricerca. La libertà religiosa è il nucleo fondante di tutta la libertà, di tutte le libertà, perché tocca la coscienza, quindi la libertà di coscienza è la libertà afferente alla dignità di ogni persona umana, che non può essere calpestata per nessun motivo e da nessun governo, da nessuna politica e da nessun piano particolare. Grazie a tutti.